Chi sono io? Uno che ha avuto la fortuna di fare di una passione una professione. Quando ero più giovane la passione era qualcosa di particolare. Perché la passione resta figlio e temore, no? Questi sono i ciclisti del tempo, i tempi di Bottecchia, i tempi di Binda, quei corridori che erano abituati alla fatica, strade bianche, tutti i giorni che c'era una fatica. Conta avere molta passione e conto solo avere voglia di andare in bicicletta. Poi dopo, che sia uno sfido culturiale, è uno sfido culturale di successo. Beh, è uno sfido. Una sfida che fa spavento.